eccoci qui ancora i porcini del faccio bellissimi andiamo a questa caccia e che c'è se fuggi la neve è così è vero ecco il primo sai che c'è sutta sai tra si cosa fatti se te gatti poter fuggi a sua e a escavare ma non è frattito a escavare scavamo scavamo ma comunque la terra è potente qua terra miura eccolo qui maronna bello la comanduria fino a vero eccolo qui il prossimo è spettacolare è è è un'esciocante guardate è 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 eccoci qua eccoci qua eccoci qua è 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 bellissimi questo è sfatto anche quello non aveva visto questo è proprio sfatto quello proprio sfatto al massimo no, che hanno scazzato me uno porcino mai visto Marun ci devi sceppare un pochino e da qua ci devi sceppare un pochino incredibile tutti sotto un albero incredibile eccoci qui sotto un bel faggio Marun si vedono montagnelle ecco il primo ecco drink ecco 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 érie ecco 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 Sì, è tutto faggio, ma questo è zico, questo è piccolo, bello, abbiamo mesolato, abbiamo mucciato, ecco il prossimo, è una cosa bella, queste sono veramente spettacolate, vado, ci sono passate, ci sono passate la rete, non lo faccio mai, non lo faccio mai, non lo faccio mai, non lo faccio mai, guarda, 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 qua questa è bella, ci sono tutte le funce, un funce, un funce, Favio, quante fai? Porcino bellissimo Bianco Fai? Tutti belli Tutti belli Puliti Proprio alzano il lipo Bello Ma chi sto a cah Ma chi sto a cah Come si Congruzione Che funghi Incredibile Funghi perfetti, ma una chi le ho un po' volo in motone, proprio. La pulizia del fungo. La lumaca. La lumaca. Ma proprio voglia mangiare come i lupi, se lumaca non si abbutta no. Lì c'è una boffa, la c'è un fungo mai visto. Dai, sotto percuna pure. Guarda, 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 sopra il tronco. E altri due qui. Questo è un video dove lo metto tutto quanto. Sì, sì. L'ho fatto tutto insieme, l'ho stoppato ogni volta che lo metto. Mamma mia. Vieni porcita. Spettacolo qui, non si scherza proprio. Un canna accanginata a boffo, eh. Bello, questo è bello proprio, sì sì. Lo vedo bene. Eccoci. Vieni, ecco. Come si diffonde? Eh... Continua il cammino. Giù dà, sì, che vieni a prenderlo. A 2 kg, sì. No, qui sotto. Questo è il cammino a manco. Eh? Questo manco. Questo dove stavano mangiare. Questo è il cammino. Ecco, il prossimo. Il cammino è coltivato. Mamma mia, veramente. Pettacolato. C'è il cammino? Qualcuno. Dai, vieni come sono belli che tu. Belli. Ma questo è il cammino proprio. È perfetto. Il cammino è il cammino. C'è il cammino bello sui due. Eh... Beh... Marona che sono due. Guardalo qua. Sono belli per la mamma. Ma io. Vero porcino. Vero porcino. Se li lasciano pochi di giù. Si fa c'è cavolo. Se faceva freddo, ma ora si veniva a temperatura del 0 gradi. E anche le mani. Non andavano. Un chilo. Guardo. Ma io. Eccoli. Chi si sta appoggiando la malattia? Marona, ma chi è? Marona, quando è? Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Qua, eccolo un altro. Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Però io non voglio una idea, per ora. Vieni, vieni, vieni. Guarda qua questa. Ma non c'è cinque chili di fune. Ecco qui. ma c'è un feto qua però ma ma chi sto qua facendo bello eh sto sentendo pure in giufeta i porcini se gli ho un caffè no quale caffè? no? proprio merda fischata marun è qua veramente fischata proprio marun è questo qua ma ma guarda questo qua mamma mia bellissimi marun è questo guardiamoli guardiamoli perfetti ah guardate i prossimi che escono questo comando preta marun è questo il paesaggio tutto pulito funge tutto parte scioppate cose così va si va avanti a funge porcino ci verrà grazie a tutti cosa vuoi